Ci aspettiamo che il mondo impreditoriale abbandoni visioni stereotipate ed abbia il coraggio di fare scelte strategiche chiare, mettendo in campo idee e progettualità che siano coerenti con la vocazione naturale del nostro territorio. Parola dei Comitati Cittadini per l'Ambiente, che in una nota specificano come il no al progetto SNAM, è scaturito da un approfondito studio dei progetti, da assemblee pubbliche e da numerosi confronti con le forze politiche e con le istituzioni. Non esiste perciò nessuna sindrome che abbia contaminato i nostri amministratori pubblici, rilevano i Comitati Cittadini. Imprenditori e associazioni del tavolo delle opportunità, che non vuole essere il tavolo del no a prescindere, hanno chiesto un confronto aperto e sereno con la SNAM e con il Comitato che contro il progetto. L'etichetta di comodo di quelli del no a prescindere è palesemente falsa e suona come un'offesa nei confronti dei tanti cittadini che in questi anni sono stati costretti a riempire i vuoti della politica e delle istituzioni per difendere il nostro territorio da progetti fortemente impattanti come l'inceneritore per i fide ospedalieri Coccinella, la Megacava, il cementificio Toto, il deposito per la rottamazione degli aerei, la centrale della SNAM con annesso metanodotto. Non ci sembra che uguale attenzione a tali impianti sia stata dedicata da chi oggi, in modo del tutto gratuito, attacca l'impegno civico dei cittadini. Ci sembra piuttosto di rilevare una sorta di confusione che paradossalmente porta a dire sì a prescindere a tutto, tuonano i comitati cittadini. Ci si spieghi come possano il turismo e l'agricoltura di qualità convivere ed avere una prospettiva in presenza di un ambiente inquinato e degradato. Nella battaglia contro Ombrina, insieme a cittadini e sindaci, abbiamo visto in prima linea proprio le organizzazioni e i produttori, gli albergatori e i coltivatori della fascia costiera, a difesa di un modello d'economia pesantemente minacciato dalla deriva petrolifera. Concludono nella nota ai comitati. Proprio ieri sull'argomento si è espressa anche la presidente di Orsa Pronatura Pelini e Maria Clotilde Iavarone. Dispiace vedere gli esponenti delle associazioni provinciali e locali degli imprenditori che dovrebbero proporre, progettare e attuare strategie per revitalizzare il tessuto produttivo locale, doversi servire di vecchi, obsoleti, nostalgici slogan del fango, quali il no a prescindere per stravolgere, soffocare, demolire, abbattere, annullare quei valori di salvaguardia dell'ambiente e della salute e sicurezza, ormai riconosciuti come tendenza globale per un vero e duraturo sviluppo sostenibile, ha fatto notare Iavarone.